3 e mezza del mattino da ricordarsi che questo non è un orario divertente a cui svegliarsi ma perché sto facendo un video adesso? perché ho un aereo da prendere per andare in Marocco e vi porto con me e andiamo a divertirci a fare delle cose molto interessanti ma vi spiego tutto quando siamo arrivati ok, forse sono andato un po' troppo avanti cosa ci faccio con una Tuareg nel bel mezzo del deserto? beh, facciamo un passo indietro qualche giorno fa mi è arrivata una chiamata da Aprilia dove mi è stato chiesto se volessi unirmi ai ragazzi di Enduro Republic per prendere parte a un viaggio di 4 giorni tra strada ma soprattutto fuoristrada che ci avrebbe portato dall'incasinatissima città di Marrakesh fino al deserto del Merzuga quindi un adventure, sabbia, deserto e il Marocco del quale è impossibile non innamorarsi potevo rifiutare? direi di no e quindi eccomi qua per saperne di più vi basta andare sul sito di Aprilia o su quello di Enduro Republic per trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno anche perché io farò solo 4 giorni ma volendo si può continuare raddoppiando la durata del viaggio ora partiamo via partiti sono riusciti io ancora uscendo dall'albergo diciamo bel 300 km oggi belli leggeri eh ma c'è già anche qualche pioggia perché fa fresco poi dice 13 gradi ma io c'ho freddo adesso andiamo la Marrakesh a metà indefinita 300 km strada fuoristrada tutte e due andiamo andiamo avanti il pranzo va al sacco vedi come si è insaccato il pranzo guarda che experience che è che paella che è e via arrivati primo giorno finito allora non si vede niente perché nel frattempo che sono arrivato e mi sono fatto la doccia perché oggi abbiamo fatto un po' di guadi quindi ero completamente lavato beh è diventato buio comunque siamo a scura oasi di scura abbiamo fatto alla fine 310 km circa equamente divisi tra strada e fuoristrada e questa qui è la mia per adesso vorrei dire solamente una cosa che avevo già detto quando abbiamo provato la Desert X la rally poco tempo fa qui in Marocco trovate il video qua in alto e questo è un posto magico cioè veramente arrivi in dei punti dove non c'è veramente quasi contaminazione umana e quello che c'è non è invasivo come è da noi è veramente bellissimo poi anche la gente sempre sorridono tutti soprattutto i bambini alcuni lanciano i sassi ti fanno il medio ma non penso che il significato sia lo stesso che è da noi lo prenderanno in un altro modo però no bello sicuramente l'ho già detto almeno una volta nella vita esperienza da fare il Marocco ma anche su strada perché ci sono delle strade bellissime con dei posti bellissimi è anche un asfalto non male è un po' sporco ai lati però si va tranquillamente anche su strada nessun problema e poi il fuoristrada invece molto bello perché oltre proprio al tipo di terreno diverso rispetto a quello che si può trovare da noi ma anche alla larghezza dei tracciati alla scorrevolezza sono proprio più lunghe le strade non finiscono mai qua puoi fare 100 km di fuoristrada senza vedere mai l'asfalto però questo secondo me è un po' il succo anche di fare un'esperienza del genere per quella che è la moto beh la conoscete già l'abbiamo già provata in tutte le salse vi ricordate anche la comparativa con la prima dei Guareschi anzi sarebbe il caso magari di farne anche un'altra visto che adesso le moto sono cambiate comunque la mia è tutta originale è assolutamente l'SC Project e me ne parlo giorno per giorno di come sta andando è gommata Karu 4 pressione 2 bar per oggi vi dico che beh sono un salitor trovato la twerg che mi ricordavo che conoscevo già la glomia è sempre molto bella perché la moto è molto stretta tra le gambe belle le pedane anche se sono un po' troppo avanti per i miei gusti mi piacerebbe averle un filino più indietro per il resto funziona tutto bene il freno posteriore lo raggiungi bene tutti i comandi li trovi il manovrio bello largo mi piace l'unica cosa appunto sono le pedane un filino troppo avanti che fanno avere una posizione di guida in piedi che non mi fa impazzire alla lunga un po' mi stanca però oltre a questo niente se invece quando sei seduto la sella è molto bassa rispetto al manubrio è una posizione un po' insolita direi fuori stradistica per quella che è una maxi enduro quindi per quello che stiamo a fare qua ci sta l'altro è segnalare niente se non che oggi mi esploso il parolio sinistro nella forcella ma non è capitato solo a me è capitato anche ad altri e anche a chi non ha la Tuareg quindi direi che è una cosa dovuta più al percorso che alla moto anzi sicuramente però il vantaggio di venire a fare un esperiente del genere con anche i ragazzi di Enduro Republic è che questo qui io adesso vado dentro a mangiare vado a dormire e domani è a posto c'è qualcuno che lavorerà al posto mio a sto giro però no, è il vantaggio di fare una cosa del genere di partecipare a un evento organizzato in questo modo tra l'altro abbiamo c'è dietro il pick up con la moto sostitutiva quindi qualsiasi cosa dovesse succedere ce n'è una di ricambio sia per quelli che sono i pezzi di ricambio sia magari se dovesse rompersi la moto che non può essere riparata un'organizzazione del genere è una cosa che per l'utente che viene a fare il viaggio perché vuole fare questa esperienza è molto importante perché ti salva da imprevisti ti permette di continuare il viaggio e fai tutto in assoluta tranquillità e soltezza come faccio io adesso che altro da dirvi non ne ho beh domani abbiamo meno chilometri ma più fuoristrada questo è un bene e costeggeremo tutta la catena parte della catena montuosa dell'Atlante e quindi direi che ci vediamo domani e con questa luce che mi spara in faccia come se avessi la torcia per raccontare una storia dell'orrore direi che forse è il caso di vederci domani via giorno 2 non è stato più caldo di ieri però è un po' fresco la mattina non è stato più caldo di ieri 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giorno due, finito. È già così tanto buio ma perché me la sono presa un po' con calma, io sono andato un po' lungo. Siamo a Tingir, che è questo paese qua. Non c'è molto però c'è un bel movimento. Ogni tanto sentirete passare anche alcuni mezzi un po' improbabili che sono quelli che hanno qua. Ha motorini, dei mezzi a tre ruote che non ho ancora capito onestamente cosa siano, se sono più moto più macchina però vabbè. Oggi è bello, abbiamo fatto un po' meno strada di ieri. Asfalto alla fine è sempre 50-50 perché alcune strade le hanno riasfaltate dall'anno scorso. Mi hanno detto quindi. Percorso? Allora, non è deserto di sabbia ancora, quello ci arriveremo a Merzuga, ma è terreno battuto. Oggi abbiamo fatto dei bei pistoni, pezzi molto veloci, anche a un certo punto sono arrivato a 160. Quindi direi che ci sta per chi vuole provare la velocità massima della propria adventure o comunque avvicinarsi, sì. Bello, molto compatto però, un po' di sasso smosso, quindi nei pezzi in salita, quando c'erano i sassi un po' più grossi, anche abbastanza, non dico complicato, ma se ci si vuole mettere un po' la prova e darci un po' di gas funziona sicuramente. Però nonostante questo è giusto sottolineare che è qualcosa alla portata di tutti, niente di estremo, però dal momento in cui volete divertirvi, che avete un po' più di skill, fate senza nessun tipo di problema. Domani andiamo a Merzuga, finalmente, e arriveremo là domani sera. Non so ancora come sarà il percorso di domani, né quanti chilometri faremo. Adesso sentite qua un po' i mezzi dei local. Adesso direi che vado a mangiare, però prima vi porto al volo un attimo giù alla moto, che parliamo anche un po' della moto, di come sta andando, di come mi sto trovando. Seguitemi. Dopo 500 chilometri, più o meno, direi che è arrivato il momento di parlare un po' della moto, di come mi sto trovando, anche se non è una novità, l'abbiamo detto, però ci sta a fare qualche considerazione. Intanto questo, se ve lo stesse chiedendo, è l'attacco per la camera. Nesto giro vedrete un po' di attacchi in giro, un po' di roba sporca, però al momento non c'è nessuno che ci fa le immagini, quindi così è, mi spiace, ma torneremo ai nostri standard molto presto. Un po' più vlog, prendetela così. Allora, è una moto che continua a piacermi dell'ergonomia, ne abbiamo parlato ieri, di tutto il resto. Innanzitutto, una cosa, è una moto che si adatta molto molto bene alle caro U4, sia su asfalto che in fuoristrada. Adesso come pressione, stantina le controllate, le ho sistemate, siamo a 1,8, un po' meglio, soprattutto in fuoristrada, la moto è un po' più facile a gestire, ha più trazione. Come sospensioni? Bene, perché non sono male, soprattutto per dove siamo adesso, quindi parliamo di percorsi dove non ci sono tante buche, non sono tanto scavati. In generale mi piacerebbe un po' più rigida, però vabbè, è una moto di serie, ci sta. Sul Molo mi piacerebbe avere un po' più di sostegno, ma devo dire che in generale, in linea di massima, è un bel assetto, anche per quando magari si vuole andare un po' più piano, che copia un po' di più. Per quando si va forte, ovviamente, sospensioni di serie restano molto molli. Il Molo non mi dispiace come funzionamento, mi piacerebbe un filino più sostenuto, un po' più, con un po' più di sostegno, magari in uscita di curva, quando si va a dare tanto gas, per tenerla un po' più precisa, diciamo, anche quando si perde aderenza. Però non è male, la forcella invece, beh, molto morbida, ma nonostante questo devo dire che arrivare a fondo corsa non è per niente facile, e questo è un bene. Come il resto, poi, mi piace un casino il freno posteriore, perché funziona molto bene, soprattutto con queste gomme, c'è un buon grip, si riesce poi, il freno è molto modulabile, si gestisce bene. Come mi piace tanto, anche l'ABS davanti, perché non lo sto disattivando per una questione di praticità, su un partito così è rimasto così, però è settato molto, molto, molto bene per i fuoristrada. Devo dire che è uno dei migliori ABS anteriori in fuoristrada che abbia mai provato. Questo assolutamente, poi anche feeling alla leva, ottimo. Per quello che è il motore, invece, direi che ne parliamo domani, così facciamo un pezzo per volta, e così non vi annoiate che magari non parlo di moto, lo teniamo per domani in motore. Per il resto, beh, elettronica non c'è molto da dire in realtà perché, oltre all'ABS davanti, è l'unico controllo che sto usando perché è controllo di trazioni sempre spento e tutto. Però, qua faccio una precisazione, l'ho provato su uno in fuoristrada, è utilizzabile. Lo riuscite a usare, non ci sono problemi, è chiaro che se volete divertirvi, quindi averla più libera fa la differenza, però per chi anche fosse le prime armi funziona assolutamente. Qui è già buio da un pezzo, nonostante sono i tramonti dopo rispetto all'Italia, quindi direi che vado a cenare e poi a sistemare un po' di robe per domani e quindi ci vediamo domani. Partiti giorno 3 Andiamo Il momento oggi è esagerato, comunque andiamo a Mertunga finalmente, e abbiamo 290 km mi sembra, se ho capito bene, potrebbe tranquillamente non essere così, quindi lo scopriremo più tardi, adesso andiamo. Ok, ci stiamo cominciando ad avvicinare al deserto, qua abbiamo fatto, non ha ancora di sabbia, nel senso che c'è un po' più di sabbia ma non c'è il sabbione, però diciamo che il sole e le temperature sono decisamente deserto, perché adesso ci sono, sulle 11 di mattina più o meno, ci sono 26 gradi, qualcosa del genere, e c'è un sole talmente forte e dritto che non si vede niente, anche con gli occhiali con la lente scura, beh, però insomma, direi che è abbastanza meritevole. Adesso continuiamo, ci abbiamo ancora un bel po' di strada. Adesso continuiamo, ci abbiamo ancora un bel po' di strada. Ok, giorno 3, mi ricordo che è anche finito, sono a Campotendato, siamo a Merzuga, dopo vi faccio fare un tour della camera, ma adesso, vabbè, parliamo velocemente della giornata, io oggi mi sono anche bruciato, perché oggi abbiamo fatto deserto, quello vero, quello vero è sempre deserto, un po' duro, un po' di sabbia, abbiamo cominciato a trovare la sabbia, qui invece, adesso non so quanto si veda, qui dietro c'è una duna che ovviamente non si vede, è tutto completamente buio, tra l'altro c'è un po' di foschia, ma le stelle, cioè nonostante ci sia foschia qui, le stelle si vedono il bene, direi meglio tre volte tanto rispetto a quanto si vedano da noi, perciò vi lascio solo immaginare veramente uno spettacolo, qui invece siamo proprio sulla sabbia vera, e domani vediamo, sto ancora cercando di capire cosa farò, perché domani si splitta un po', si può fare sand training con i ragazzi di enduro republic, con le mono, quindi si fa sulle dune a fare veramente le dune, se no si può fare un giro che fanno loro qua intorno con le maxi o con la mono, dipende poi con che moto venite voi, però comunque con le tuareg, c'è un po' di roba da fare, io sto ancora cercando di capire cosa farò, però vediamo, lo scopriremo vivendo, comunque oggi figo, abbiamo fatto tanti chilometri, tanta strada, perché alla fine dovevamo farne 200, poco meno di 300, ne abbiamo fatti 320, abbiamo finito col buio, però bello perché abbiamo fatto tanto fuoristrada, deserto quella parte lì veramente figo, con le 4.4 è un po' tosta, anche con la moto di serie, quando ci sono un po' le buche, fai un po' fatica, o meglio non fatica, per andare forte bisogna chiudere un po' il gas, anche se si vorrebbe andare un po' di più, perché chiaramente la moto è troppo morbida, le gomme poi non sono quelle giuste, però nonostante questo è veramente una bella esperienza, c'erano anche dei ragazzi che non avevano mai visto la sabbia in vita loro e che sono andati sulla sabbia, ora, di nuovo, non sabbione sabbione, però c'erano dei punti belli belli molli, e quindi questo è figo, in ottica di un'esperienza anche uno che dice, eh però non lo so, non l'ho mai fatto, eh se ha comunque una buona base di partenza, lo può fare senza problemi, intanto mi vedo adesso, perdonatemi la mia faccia e tutto, ma qua un po' non c'è il phon dentro nelle tende, quindi bello, molto 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 bello, ho visto anche c'erano i dromedari, i cammelli, sfide un po' di tutto, e poi andare veramente a 130 sullo sterratone con la moto, che c'è un po' di sabbia, un po' il sasso, abbiamo fatto anche qualche fuori traccia, un po' carino con la classica ghiaia da deserto, è molto molto figo, mi sono divertito, si sono divertiti anche tutti gli altri che c'erano, perciò direi che funziona, no? Moto, vi ho detto che avremmo parlato del motore, allora rispetto alla prima tua reg che ho provato, secondo me un po' è migliorata, io la sto usando in individual come mappa, potenza piena e come vi ho detto ieri, tutti i controlli spenti, allora considerando la buona trazione, ovviamente tenendo in considerazione il tipo di gomma che ha la moto, se questo viene unito al fatto che sotto non c'è tantissimo, tantissima coppia, proprio in basso appena si prende il gas in mano, fare un po' gli scemi, un po' i traversi solito, non è la moto più facile del mondo, però il motore allunga bene, quindi non siete sempre lì a litigare col cambio e soprattutto, anche se è vero, fare magari traversi non è proprio semplicissimo, quindi non si ha tantissima coppia sotto, quando fate le curve anche in salita, seconda, vi aiutate al limite con un pochino di frizione, nessun problema, anche perché il motore è vero, abbiamo detto, non l'ho detto, non ha tantissima coppia, però è super elastico, anche su strada o sugli sterratoni, quando si va un po' più piano, anche io ho provato ad andare a 60 all'ora con dentro la quinta, la tiene benissimo, quindi questo bene, mi piacerebbe avere un po' più di, appena c'è quel tocco del gas proprio in basso, perché ti permetterà di divertirti un po' di più, questo poco ma sicuro è magari di tirarti fuori con più facilità in alcune situazioni di impiccio, quando stai andando forte, perché quando stai andando piano, direi che il problema non si pone. Altro, beh, devo dire una cosa, la moto è molto stabile, considerando le sospensioni di serie molto molli, soprattutto per quando si va forte, e beh, sicuramente era la frizione, bene, perché la frizione è a cavo, però non si è mai allungata, comunque devo dire che è un po' la moto maltrattata, quindi non ha mai perso gioco, volendo ho ancora un po' per andarci a lavorare, non tantissimo ma un po' ce l'ho ancora, quindi questo assolutamente positivo, poi è bella morbida, si usa bene, progressiva, ha un bello stacco abbastanza reattivo. Bello anche il cambio, mi è piaciuto, non è male la spaziatura, forse avere, avrà avuto un dente in meno di pignone o qualche dente in più sulla corona, non sarebbe stato male per andare a mitigare un po' il discorso della poca coppia che c'è proprio in basso, però è spaziato bene, poco da dire, soprattutto questo funziona bene anche per quanto riguarda l'elasticità del motore, e oltre a questo però ha bello il comando, perché adesso quella moto che ho io non ha il quick shifter, quindi lo sto usando sempre senza, in fuoristrada tra l'altro uso quasi sempre senza, è un bel comando, c'è un bel feeling sulla leva del cambio, non è super morbido, nel senso che ha gli innesti un po' secchi, ma a me questa cosa piace soprattutto in fuoristrada, perché sento bene quando entra la marcia, e non ho mai sbagliato marce, la leva è regolata giusta per usarla con gli stivali da cross, e è perfetta, sia per quando si deve scavare, sia per quando si deve mettere dentro le marce, e mi dà proprio un bel feeling, questo devo sottolinearlo dopo tanti chilometri, perché per il momento, già alla fine siamo arrivati a in totale, saremo circa 800 chilometri, che non è poco, bene, adesso direi che vado, anzi vi porto con me a fare il room tour, o almeno forse la tenda tour, qualsiasi cosa come volete chiamarla, andiamo, da qui si entra, il lucchetto per chiudere, beh direi che ci siamo, c'è un po' di casino, due sedie, il letto che è enorme, perché è veramente largissimo, poi c'è qui questa specie di poncio, credo che sia più di arredo che da mettere, però non è mai detto, comodini, ci sono tappeti dappertutto, ovviamente pavimento in cemento, calorifero, e qua invece c'è il bagno, vedete, lavandino, la doccia, molto, questa è abbastanza particolare, una cosa che poi in Marocco, le docce, usano la vasca, o le docce non hanno, non hanno, ce li hanno fatti un po' in maniera sommaria, la cosa per appendere proprio il doccino, non so, un po' strano qua, qui, tra l'altro in questa tenda, adesso dirì è chiuso, comunque scrive così, non ci sono le luci, né nella doccia, né nel bagno, ma visto che c'è plexiglass qua, verde, potete chiudere allo stesso, beh, questa è la camera, comunque figa, devo dire, non è affatto male, e non fa neanche freddissimo per il momento, ma questo ve lo faccio sapere domani, se morirò di freddo, bene, room tour, o come volete chiamarlo, finito, adesso vado a sistemare un po' di roba, e poi ci vediamo domani. Bene, ultimo giorno, c'è un vento della madonna, c'è, questo lì se l'abbiamo a quasi, però vi faccio vedere con la luce, come è il campo qua, proprio nel deserto, anche le dune, e non so ancora cosa faccio oggi, cosa farò oggi, adesso mi prendo, penso meglio, vediamo, prendo la moto, andiamo un po' sulla santa, e, Grazie a tutti. 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 Allora, sale sulle dune senza problemi, la moto bisogna solo capire come fare, ma penso che sia la cosa più bella che io abbia mai fatto su una moto in vita mia. Non la più tecnica, non la più, diciamo, adrenalinica dal punto di vista proprio della velocità, della tecnica di guida e di tutto, ma il posto dove sei, soprattutto quando abbiamo fatto le prime al mattino che eravamo proprio dentro a una distesa di dune, avremmo fatto 3-4 km solo di dune, è la cosa penso più bella che l'abbia mai fatto in moto. Se non la più bella, una delle più belle. Va su, bisogna fare attenzione quando si arriva sopra la duna perché noi, soprattutto la mattina, mattina, soprattutto in ora di pranzo diciamo, abbiamo fatto all'una, una e mezza, c'è il sole proprio sopra e quindi non vedi cosa c'è dietro, non ci sono le ombre. Quindi in alto bisogna arrivare un po' piano, fermarsi quasi per vedere appunto cosa c'è giù perché in alcune c'è la discesa normale, in altre c'è proprio un muro che va giù. Non in massimo se ci si arriva manetta, però che bello, veramente fighissimo, non saprei cos'altro dirvi, una cosa, non lo so, ti lascia senza parole. È un posto magico il Marocco e soprattutto se poi si ha la combinazione di campo tendato come in questo caso perché fuori non ci sono luci, non c'è niente intorno, delle stelle così, poi di giorno sei in mezzo alle dune, in mezzo alla sabbia con la moto. Questo è pazzesco, veramente bellissimo. Non so cosa dirvi sulla moto perché vi ho detto più o meno tutto, è chiaro sulla sabbia c'è da aggiungere che il motore comunque va, se si tiene bello alto di giri, le gomme funzionano, è molto molle di sospensioni, però una moto di serie ci sta, non è proprio progettata per fare le dune, ma volendo sappiate che potete farlo. Quindi bravi in Aprilia che hanno fatto una moto che fa le dune e bravo a mezzere perché caro U4 da paura, veramente non pensavo, cioè con la sua manetta va su, di gomma non ne avevo praticamente più dietro, quindi c'è veramente, sono rimasto male. E niente dai, adesso direi che vado a prepararmi tutta la valigia, faccio tutto in giro perché ho l'aereo alle sette del mattino e partiamo di qua alle tre e mezza, quindi tra non moltissimo, mi sa che devo sistemare tutto, penso sia il caso. E niente direi che il video finisce qua, mi spiace che non ci sia stato un racconto più intenso, anche come immagini soprattutto, ma purtroppo da solo non è facilissimo, anzi devo dire che è molto difficile, il tempo a disposizione poi durante le giornate era poco. Quello che ho da dire su questa experience è che se volete provare l'emozione tra virgolette dell'avventura, soprattutto in un paese straniero che non sia la solita Italia senza nulla togliere perché ci sono dei posti bellissimi però il deserto è veramente una cosa fuori, qua ci sono dei luoghi sconfinati. Beh, ve l'ho raccontato, fare una cosa del genere secondo me non è male, il costo non è bassissimo, è vero, questo bisogna riconoscerlo, però l'organizzazione dei ragazzi Enduro Republic è molto molto buona, quindi direi che è giustificato o meglio commisurato il prezzo a tutto quello che c'è, anche nei posti dove si dorme, si dorme sempre in dei bei posti, molto caratteristici devo dire, però no, sono soldi ben spesi nel senso di un'avventura, una cosa veramente che non capita tutti i giorni di poter fare e dei posti che sono veramente impagabili, cioè penso che vedere delle cose del genere, fare le dune con la moto, anche il deserto comunque quando c'è un po' di terra un po' più battuta, non per forza dovete fare le dune, è veramente una cosa che non ha prezzo, cioè non è quantificabile in soldi. Quindi pensateci, ci sono tante altre experience, questa è una di quelle e secondo me è fatta molto molto bene e poi anche perché no, chi vuole provare magari la Tuareg e dice ok al posto che provarla qua in giro dove sono io, voglio provare nel deserto, beh questa è l'occasione, la moto funziona, posso garantirmelo. E quindi niente, commentate qui sotto cosa ne pensate, lo fareste, l'avete già fatto, magari raccontateci un po' le vostre esperienze, cosa ne pensate della Tuareg, soprattutto le nuove colorazioni che secondo me sono fighissime. Penso di non aver più niente a dire, vi ho detto un po' tutto per quello che sono riuscito e quindi ci vediamo al prossimo video.